delle russe e che in qualche maniera Maximenko prima e forse adesso queste nuove ginnaste hanno sempre creato qualche problema per le russe perché da un punto di vista individuale sicuramente l'Ucraina ha una scuola notevolissima e presenta sempre delle bellissime ginnaste. Intanto la Rizzadinova che va a tracciare una linea sulla terza e ultima rotazione, sai prima vedendo la tuta della Germania mi sono reso conto veramente a proposito di età, di un certo tipo di stagionatura se vogliamo che io veramente ho avuto un flash con la Bresca, bellissima ginnaste. Sì stiamo parlando di Anticaia e Petrella Isabella ho capito. Le Germania erano ancora divise. No lo so comunque era una bellissima ginnaste. Vabbè anche quando gareggiavo io le Germania erano ancora divise quindi. Andiamo a vedere la Rizzadinova per l'amore dei telespettatori. Daniele. La Rizzadinova per l'amore dei telespettatori. Addirittura si ispira a Michael Jackson alla Rizzadinova. Un omaggio a Michael Jackson risuonato in maniera molto particolare. Questa ginnasta è una bellissima ginnasta però rispetto ad esempio alla sua compagna Maximenco trovo che ancora non ha guadagnato quel calore, quel trascinamento che invece è tipico della Maximenco. Si è ancora una ginnasta forse anche perché è abbastanza giovane.